Figlio di una sarta e di un direttore di palcoscenico teatrale, inizia a recitare sin da ragazzino. Negli anni settanta entra a far parte del gruppo repellente, ideato da Enzo Iannacci e Beppe Viola, assieme a Diego Abbatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti, Giorgio Porcaro ed Ernst Tolle. Ha preso parte poi a numerose commedie degli anni ottanta, Sapore di mare due un anno dopo, Iester dei vacanze al mare, Ferragosto che è più tardi nei due abbronzatissimi. Dall'ottobre 2012 è in scena con la commedia Vengo a prenderti stasera, con Nini Salerno e che vede l'esordio di Diego Abbatantuono come regista teatrale.